Eccoci tornati con Touring Basket e dunque dopo la lunga parentesi di viola Reggio Calabria ci trasferiamo con la Serie C nazionale Buonasera al mio ospite Pietro Marzo Buonasera, buonasera a tutti Insomma è la notizia del giorno, la vista Reggio Calabria capolista rafforza il proprio roster con un super ingaggio, un playmaker In arrivo dall'Aquila Palermo noi lo conosciamo molto bene, mancino molto molto veloce, pronto a far bene per la causa della capolista regina Insomma Pietro, cosa ti ha spinto a scegliere questi colori? Ma non appena con la società dell'Aquila abbiamo discusso e ho scelto di interrompere il rapporto Ho stato in contatto con la società della Vista Reggio Calabria e subito la mia scelta si è orientata verso la Vista In virtù delle parole che siamo dette col Presidente e con l'allenatore ho sposato il progetto e l'obiettivo della società Quindi poi conosco benissimo l'ambiente, ho avuto modo di giocare con alcuni giocatori in passato Con Radini e Pellegrino, da avversario ho affrontato gli operatori di spessore come Grasso, Travontana e Zampogna Quindi insomma mi sembra un collettivo che ha le idee ben chiare su cosa fare Hai giocato praticamente contro tutti perché ha giocato per tante stagioni con la canotta della Cireale Insomma, corsa al primo posto, se non sarà primo sarà secondo, l'obiettivo è arrivare alla seconda fase Specialmente dopo il tuo ingaggio Sì, questa formula è nuova, negli anni scorsi quando si è portata la Serie C c'era una stagione regolare con i playoff a 8 Quest'anno c'è una formula nuova e stimolante onestamente perché le prime classificate come ben sapete Poi si incontrano in un girono a 4 con le altre, con le prime classificate di altri gironi Quindi sì, la pista in questo momento ha fatto un percorso eccezionale, si trova in prima posizione Quindi vuole cementare sostanzialmente la situazione E io vengo a dare una mano, metto a disposizione l'allenatore del gruppo Sapendo che i meccanismi sono quelli di una squadra collaudata e ben gestita Rivolgiamo il nastro per un attimo, parliamo della Serie B da dove tu provieni Catanzaro stupisce ancora e vince addirittura a Monteroni Tu conosci molto bene il gruppo giallorosso, ci hai fatto anche uno spareggio giovanile se non sbaglio Vittoria contro una super squadra dove giocano giocatori del calibro di Mokavero e Grosso Hanno battuto anche voi a Palermo, con Palermo a Catanzaro Incredibile Catanzaro è un po' la sorpresa di questo campionato Sorpresa magari per chi si affacciava dopo tanti anni di Serie C di nuovo alla Serie B nazionale È una squadra che ha confermato il gruppo storico della C1 che per anni ha tentato di vincere il campionato L'anno scorso ha perso proprio con l'Aquila a Palermo in finale play-off Con l'innesto di Davide Naso che era stato anche mio compagno a Docireale Il roster è molto competitivo Ha vinto contro Monteroni che è onestamente fuori casa Che è onestamente una squadra che lotta per le prime 5 posizioni Con Mokavero, Grosso, Ingrosso Un collettivo abbastanza di livello Io credo che Catanzaro abbia tutte le carte in regola per fare bene anche in chiave play-off Quindi è una mina vacante e bisogna essere attenti Che ti ha detto Checco d'Arrigo per convincerti? Checco conosco da un paio d'anni Ho sempre giocato contro, fin da quando allenava all'amatore Messina Siamo incontrati lunedì sera Abbiamo discusso un po' di quelle che sono le sue aspettative Rispetto sia al campionato e al mio inserimento Sono un allenatore sicuramente che mette passione e sacrificio nel suo lavoro Quindi lo conoscevo e l'impressione è stata confermata dalla chiacchierata che ci siamo fatti Per convincere mi ha detto che si vuole andare in Serie B Siccome io tra le ultime 4 stagioni ho sempre fatto finali persi Una volta con Trapani, una volta quando giocavo a Ragalmuto con Acropoli E poi con Cus Messina Lo stimolo di fare un campionato e cercare di andare fino in fondo Sicuramente è la chiave di volta di questo accordo che è stato poi realizzato È la prima volta in Calabria per te, dico bene? Sì, sì, ho sempre giocato in Sicilia Ho avanzato già nella mia carriera in C2 E poi a 17 anni sono passato a Catania in doppio del seramento L'anno dopo mi hanno riconfermato Facciamo un ottimo campionato Ci salvammo con sette decimi di giovani catanesi Più Poettini, Riva e Rolando E poi ho iniziato l'altra fila sostanzialmente con la Cileale Su c'è tante, a cui mi sento molto legato Che tra l'altro domenica è stata battuta di larga misura dalla visse Quindi ho giocato 4-5 anni a Cileale Facendo due finali, play-off E in intermezzo c'è stato un anno a Ragalmuto Molto positivo Con Ciccian Sermococci E poi l'anno scorso Si era chiamato all'Aquila Palermo Serie B Che mi ha stimolato Comunque lascio un gruppo dove mi sono trovato molto bene Una squadra che chiaramente punta la Lega 2 Sì, una squadra dove milita anche un giocatore Che i tifosi e la Viola conoscono molto bene Sto parlando di Giovanatto Che spesso e volentieri con Agrigento Ha fatto del male alla retroguardia della Viola Reggio Calabria Si parte domenica contro Messina Invece per la vis, derby dello stretto Conto l'FP di Claudio Cavalieri Subito in campo, Pietro Sì, spero di essere già pronto domenica Insomma, questo è l'obiettivo Il trasferimento è stato effettuato Quindi sono pronto a disposizione di coach d'arrivo L'FP Sport Adesso io nell'ultima 24 ore Ho controllato un po' tutti i roster Ti si è fatto una full immersion, insomma Sì, esatto Seguo un po', ho seguito tutto l'anno Venendo da quella categoria Avendo anche mio fratello che gioca recidale Insomma, sono sempre aggiornato Sulle partite, sulle dinamiche del campionato L'FP Sport chiaramente è una squadra Da non sottavolvare Però la Vis, la Giovanatto Se vuole proseguire il suo cammino Non deve fare passi falsi Credo che in settimana Ci alleneremo per far bene Mi dicono che il pubblico sta crescendo Di giornata in giornata Quando vinci è inevitabile E' anche bene così Perché insomma si crea movimento E si crea del giusto seguito A proposito di Acireale In questi momenti Acireale sta recuperando La gara contro Cosenza Sospesa qualche settimana fa Avete aggiornamenti sul risultato? Vai Tra poco sì Tra poco abbiamo tutti In diretta E insomma Progetti per il futuro Magari prima esperienza alla Vis Per rimanerci eventualmente? Beh Il presidente Luigi Di Bernardo Altre sera Mi ha un po' esposto Alle sue idee Il progetto Che è quello di dare continuità A questo campionato Continuità che Si spera venga dato Con un finale di stagione Entusiasmante E mi sembra un po' prematuro Per discutere la prossima anno Però chiaramente So che l'ambiente Poi regge una città di basket Sindicina Viola Questa nuova società Giovane della Vis Che ha grandi progetti Speranza Adesso come diceva Il presidente Che finalmente si è realizzata La gestione del Palabottechel Avere un impianto A propria disposizione Secondo me È la base di partenza Per ogni tipo di progetto In più Credo che Stiano facendo un lavoro Certosino Con le giovanili Stando molto attenti Alle nuove lezioni Quindi Impianti E Settore giovanile Sono Un po' La base Per qualsiasi tipo di Di continuità Che si vuol dare Alla squadra Che ne pensi Di questa Ennesima Riforma Dei campionati Dove praticamente L'attuale Campionato Di C Sparirà O quasi Perché diventerà Un nuovo Campionato regionale E poi Una B Allargata Facendo sparire La Silver Sì adesso Ho avuto modo Di parlare Qualche settimana fa Con Peppe Foti Che tra l'altro Grande Peppe Grande Peppe Sì insomma Mi raccontava un po' Delle decisioni Che sta prendendo La Lega Penso che Ricreare una serie Unica A questo punto Con la moria Di società Che c'è In giro Potrebbe essere Una soluzione Per dare senso Nuovamente A un campionato Anche di C Regionale Dove stiamo A due Tre squadre Attrezzate Per le tassi Categorie E poi Squadre Vesoni Quindi magari Contendo la C Nazionale Con la C Regionale Facendo un Campionato di Serie C Per ogni regione Il campionato Si farà più interessante A 16 squadre Con dei playoff Gestiti bene Quanto ricorda La Serie B Credo che faranno Sei gironi nazionali Quindi E la Lega 2 Verrà Unificata Con due gironi nazionali Quindi La logica È quella Di ricreare Un po' Quello che c'era In passato La Lega 2 La Serie B La Serie C Con dei campionati Livellati Con le società Che veramente Vogliono partecipare A questi campionati Perché per esempio Se prendiamo Il caso La Serie B A volte Bisceglie Agropoli Palermo E qualche Outside Come diciamo Prima Monteroni Ma anche La stessa Pescara In fondo Alla classifica Ci sono Due o tre squadre Che sono iscritte Con progetti Giovanili E che magari Stanno facendo Fatica A misurarsi Con le grandi Quindi La riforma dei campionati Credo che vada In questo senso Vedremo un po' Che poi La Lega Ne fa Ne tenza Due Ne fa Tre Probabilmente I progetti Giovanili Talvolta Sono fatti Sia per Coltivare Giovanili Sia per Carenze Di fondi Perché Non avendo Un potenziale Per comprare Un giocatore Under Su under L'unica speranza Infatti Poi magari Queste squadre Crescendo Allungo il campionato Possono Togliere Le soddisfazioni Veramente I budget Ormai Non sono più Quelli di Sette Oto anni fa Complice un po' La crisi Complice I parametri Che la Lega Impone E quindi Si fa fatica A trovare Delle società Che sono in grado Di Prendere 6-7 cartellini In serie B Credo che il parametro Sia 6.000 euro Quindi Pronti via Già Con 6-7 Ci vuole Acquistati Non cartellinati Con la società Ci vogliono 40-50.000 euro Di budget iniziale Aggiungici Stipendi Tasse gara Palazzetto In Sicilia Poi Sicilia E Calabria La difficoltà Parlando per Reggio Insomma Che anche A sud Della Calabria La difficoltà Di fare Una serie B E quello Che devi fare 15 trasferte E 15 trasferte Dalla maggior parte Delle quale sono In Puglia In Abruzzo In Molise O ti organizzi Con il Pullman E parto il giorno prima Quindi Insomma I costi Sono abbastanza elevati Quest'anno Me ne sono reso conto A Palermo Mi trasferta Era abbastanza nerosa Immagino Immagino È abbastanza solida Quindi sta operando bene Nel roster di Palermo C'è anche Un ex giocatore Della Cististica Gioiese Che salutiamo Dario Dragna Lui protagonista Di una Il tuo conquilino Il tuo conquilino È stato protagonista Di una finale Per salire In C nazionale Proprio contro La Vis Forse tu questo Non lo sapevi Al Palabotteghelle Vinta dalla Vis Sapevo che ha giocato Un anno A Giretau Me ne parlo Quest'anno Non sapevo di questa Finale Però Vinta dalla Vis Quindi poi La promozione È stata fatta Proprio contro Dragna Sì 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 Nella Vis C'era un americano E un senegalese Che probabilmente Conoscerai Perché è lo straniero Del crotone Billy Fall E dall'altra parte Gioia D'Aura Per una super squadra Dove giocava Anche un tuo nuovo Compagno di squadra Sto parlando Dell'inglese James William Warwick Giocatore che sta facendo Molto molto bene In questo campionato E probabilmente È la carta in più Per l'ascesa Del quintetto Di coach D'Arrico Hai fatto una full immersion Di questo campionato Chi ti spaventa di più C'è Falù Patti O chi Adesso Questa è una bella domanda Perché C'è Falù Abbiamo avuto modo Di fare delle amiche All'inizio anno Visto la vicinanza Con Palermo È una squadra Giovane Con Degli elementi Di livello Come L'americano Hudson Mol dura Che veniva Lo stesso Sodero E poi ben allenato Da Triulla Anche Lui Lavora molto Nel senso che Se ne erano tanto È una squadra Che corre Quindi sicuramente Insidiosa E noi Andremo a giocare lì Se non sbaglio Ad aprile Speriamo di giocare A certimo posto Per quanto riguarda Patti Anche lì Il roster È molto competitivo Hanno avuto Dei problemi Inizio stagione Con qualche sconfitta Inaspettata Ma sono rientrati Nella corsa Per Per le prime posizioni Insomma Da non sotto a un luogo Chiaramente Anche il corso D'Orlando Che sebbene Nelle ultime giornate Abbia avuto Un attimino un calo Adesso sto andando Un po' a memoria Non ricordo Precisamente Però Anche lì C'è un roster Di livello Dove Milita Il grande Pietro Pazzana Compagno Due anni Ad aciderate Grande Grande Pietro Insomma La grande Palermo Potrebbe essere Anche lei Tirata Nella corso 5 Diciamo Credo che queste Siano le cinque squadre Ad oggi Che possono Ambire Alle prime delle posizioni Perché dietro Vedo Vedo Cireale Si accusa Ormai Hanno Troppi sconfitte Per poter pensare Dovrebbero fare Un percorso Tristallino Probabilmente Senza Tragere Mai Per cercare Di Rientrare La prima E tre Una corsa A cinque Insomma Abbiamo fatto Un escursus Tra tanti amici Da Davide Naso a Caranzaro Pietro Azzana A Costa Arlani Quando giochi In Sicilia Tra Sicilia Per tanti anni In Serie C È inevitabile Che I compagni di squadra Poi Le rincontri Con avversari I vicerelli E avversari Diventano due Compagni di squadra Quindi È inevitabile Pietro In bocca al lupo Per tutto Per questa tua Nuova avventura Appuntamento A domenica Contro Messina In bocca al lupo Trepi Trepi Buonasera a tutti Adesso In bocca al lupo